Calendario prima giornata 2023-2024, lo vedo insieme a voi, lo vedo insieme a voi, c'ho davanti la prima giornata però voglio andare a vedere un po' tutte le altre giornate, iniziamo subito così all'antica, davvero un video all'antica Bologna-Milan, il Bologna è Bologna, il Milan parte un po' antipatico perché Bologna è un campo antipaticissimo per tutti Inter-Monsa, il Monza non si sa cos'è, cioè senza presidente, è un po' antipatica la situazione del Monza Roma-Salernitana, attenzione, la Roma potrebbe beccare i primi tre punti, la Roma ha bisogno di questo, ci sarà lo stadio pieno sia a Milano che a Roma Napoli dove va? Frosinone, partita difficile perché le squadre neopromosse, le prime partite le giocano bene, sono già collaudate Sarà una partita antipaticissima per il Napoli, Juventus-Udine, tutto sommato altra partita difficile, mi ricordo un Milan di Giampaolo che perse la prima partita contro l'Udinese, beh vedere, insomma andiamo a vedere, seconda giornata seconda giornata abbiamo Cagliari-Inter, qua è un po' tosta ovviamente, Verona-Roma, attenzione alla Roma se la Roma incomincia a prendere i tre punti con la Salernitana, tre punti col Verona, adesso vediamo cosa c'è fino alla quinta la settima giornata, dopo c'è Juventus-Bologna, eh il Bologna ti becca, prima il Milan, adesso ti becca la Juventus abbastanza antipatica per il Bologna, Milan-Torino, altra squadra, il Milan, io sono convinto che c'è una parte di tifoseria abbastanza ampia, che non aspetta altro, che ha il dente avvelenato, aspettano davvero uno scivolone per farsi sentire, per fare un po' di situazioni, Napoli-Sassuolo, Sassuolo sta smantellando, ne parlerò in un altro video, ma il Sassuolo sta un po' smantellando secondo me la squadra, ho questa impressione, Napoli-Sassuolo ancora non ci sono gli scontri quelli diretti diretti, però per il Milan la partenza è Bologna fuori casa, Torino in casa bene, non benissimo, il Monza in casa, l'Inter, il Cagliari fuori, bene, non benissimo anche qua, la Roma la Roma, la Roma c'è il Verona fuori, Senni da là dentro, fino adesso insomma sono abbastanza equilibrate, terza giornata, andiamo a vedere la terza giornata, ecco già incominciamo ad avere le prime situazioni, Inter-Fiorentina, e qua già la Fiorentina è una squadra di livello, Empoli-Juventus, vabbè ci sta attenzione, la Juventus è una squadra giovane, sarà una squadra giovane, sarà una squadra che crescerà durante il campionato, Roma-Milan, wow 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 wow, cioè al 3 settembre noi avremo Roma, campo assolutamente antipatico, il Milan deve andare a vincere, perché ripeto il Milan secondo me una parte della tifoseria ha puntato, sia la società è Pioli, in parte pure Pioli, quindi il Milan non fa i 9 punti o 7 punti, oppure incomincia già a settembre, all'inizio settembre incominciamo a sentire qualche Pioli out, la Roma qua, ovviamente arriva il Milan, non è facile fare il flotto, però ce l'ha in casa questa partita, e dopo il Napoli, vediamo il Napoli dove va la terza giornata, Napoli-Lazio, altra bella partita, perché la Lazio, io non ne sto parlando, ma la Lazio è una squadra, non ne sto parlando in questo video, la Lazio è una squadra antipatica, la Lazio è una squadra da, è stata seconda l'anno scorso, non dimentichiamocela che se dovesse migliorare, se fanno gli giusti acquisti, dopo ne parliamo di queste cose, dopo ne parliamo, quarta giornata e siamo già al 17 settembre, credo che ci sia una sosta e mezzo, rottura di palle enorme queste soste delle cretine, delle National League, idiote, vabbè, lasciamo stare, oh, il derby, Inter-Milan, ragazzi alla quarta giornata, cioè il Milan si becca la Roma alla terza giornata, e l'Inter alla quarta giornata, cioè può fare Capitombolo o può fare Cappottoli in contrario, cioè che ne vince tutte e quattro, però bella tosta, è Juventus-Lazio, c'è anche Juventus-Lazio, altra partita tosta, anche la Lazio va a Napoli con la Juventus dopo, anche la Lazio là, dopo Genoa-Napoli, qua è saltato il gemellaggio, lo sapete, e chi ci rimaneva la Roma? È Roma-Empoli, attenzione che la Roma si incomincia a fare i punti uno dietro l'altro, però c'è Roma-Milan, come il Milan lo vedo un po' così sbattuto da questo calendario, cioè davvero, prima la Roma, dopo l'Inter, adesso andiamo alla quinta giornata, non mi dire che c'è Milan, non lo so, Milan-Juventus, Milan-Napoli, vediamo la quinta giornata, quinta giornata, abbiamo Empoli-Inter, partita normale di Serie A, Milan-Verona, ecco già un po' si abbasso un attimino il livello, degli avversari Sassuolo-Juventus-Torino-Roma, questa è una bella partita, insomma prendono un po' fiato, prendono un po' fiato, sicuramente il Napoli va a Bologna, e qua finisce settembre, perché dovrebbe esserci l'ultima partita, arriviamo la stessa giornata, finisce settembre, e abbiamo Inter-Sassuolo, un Sassuolo che sta smantellando, Juventus-Lecce, va bene per la Juventus, Lazio-Torino, Napoli-Udinese, sono tutte in casa, e il Milan dovrebbe essere Cagliari-Milan, e Genoa-Roma, e insomma l'inizio più brutto sicuramente il Milan non si scherza, c'è la Roma e c'è il Derby, l'Inter c'è solo il Derby dopo tutte le partite un po' normali, la Juve mi sa che è tranquilla, non ha avuto sbattimenti di nessuna sorta, e la Roma può fare il filotto, la Roma può fare sicuramente il filotto, detto questo non vedo l'ora che inizia, perché nei prossimi anni, fra un 5-10 anni, vedrete che queste soste saranno sempre più corte, perché il calcio va giocato, il calcio va giocato, va bene il calciomercato, ci diverto, io faccio calciomercato ogni giorno, quindi iscrivetevi se non siete già iscritti, ogni giorno intorno alle 6 c'è calciomercato, domenica e lunedì, sabato è alle 10, dice mezza 11, ragazzi io lo faccio sempre il calciomercato, non è la stessa cosa, giocare, 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 certo adesso c'è la preparazione, le amichevoli, però secondo me si dovrebbe giocare sempre, come fanno in NBA, con la palla canestro, e là anche là si fermano, devo dire la verità, però forse un po' meno, non lo so, per me bisognerebbe davvero giocare sempre, 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 senza fermarti, perché alla fine è il calcio, non giocano i titolari, giocano le riserve, giocano le altre, però fatele giocare, va bene ragazzi, questo era un video fatto così, apparecchiato così da 50 lire, però per il calendario, ragazzi io fra poco, no fra poco, fra un paio di ore e più, metterò il calciomercato, le voci del web, sono tanti, tanti, tanti quelli nuovi, attenzione, i nomi nuovi sono veramente tanti, sono davvero tanti i nomi nuovi, quindi seguitelo questo, questo che farò, il video che farò, intorno alle 5 e mezza, 6, dove il resto, ci vediamo la prossima, forse stasera, vediamo stasera, stasera, ecco ve lo dico, a chi è rimasto qua, ve lo dico, forse ho una mezza intenzione di andare a pescare, se vado a pescare, faccio una diretta mentre sto pescando di notte, ma pescare per me significa boom, buttarsi giù, vediamo, vediamo, ditemi che è arrivato a questo punto, che è arrivato a questo punto, mi dica, ti voglio vedere pescare, allora a questo punto farò forse la live, se vado, però ve lo faccio sapere, magari facciamo una live invece da casa, ragazzi alla prossima, ciao ciao